nota dell'autore valerio massimo manfredi questo racconto recupera in una rielaborazione narrativa autonoma le storie dei poemi perduti del ciclo toroiano in particolare di quelli che narravano i ritorni nostoi degli eroi della guerra di troia ho voluto in particolare riempire una sorta di vasta lacuna che si intravede nella tradizione tra gli avvenimenti immediatamente successivi alla fine della guerra di troia e la situazione descritta nei libri terzo e quarto dell'odissea i miti dei ritorni ci dipingono una totale destabilizzazione della grecia micenea privata della maggior parte dei suoi sovrani morti durante il viaggio o assassinati al loro ritorno o cacciati dalla loro terra questa situazione sembra subire una sorta di battuta d'arresto addirittura di parziale inversione nel quadro descritto nei libri terzo e quarto dell'odissea che raccontano la visita di telemaco figlio di ulissea pilo la normalizzazione sembra essere stata condotta dal re di sparta menelao che ha un rapporto privilegiato con nestere ha legato a sé con un patto di matrimonio il figlio di achille pirro e medita di mandare ulisse a occupare stabilmente il pelo ponneso inoltre il suo ritorno dall'egitto sembra direttamente connesso con l'uccisione di egisto da parte di oreste l'uccisione dell'usurpatore egisto e della regista dell'argina clitennestra micene è vista dal mito come l'azione singola di oreste tornato per vendicare il padre ma non si può escludere che la tradizione epica ci conservi il ricordo di vere e proprie guerre dinastiche intestine di cui si potrebbero riconoscere le tracce nelle distruzioni parziali individuate dagli scavi archeologici fuori dalle mura di micene e che preludono al disastro finale tradizionalmente attribuito all'invasione all'invasione dei dori e archeologicamente coincidente con la distruzione dei palazzi per quanto riguarda la vicenda di diomede in italia il racconto si muove con grande libertà ricalcando comunque l'itinerario tracciato dalla presenza del culto dell'eroe lungo tutto l'arco adriatico e cercando di rispettare i punti fermi già predisposti dalla tradizione epica l'ambientazione è il risultato di una integrazione contaminazione fra la patina omerizzante intenzionalmente costruita per rievocare l'atmosfera epica della tradizione e le conoscenze che ci derivano dallo studio della cultura micenea in grecia e dell'ultima età del bronzo in italia che resta il nostro punto di riferimento cronologico gli avvenimenti sono descritti per esigenze narrative non evitabili in un arco di tempo più ristretto di quello che ci propone la tradizione e anche gli avvenimenti storici attestati dall'archeologia sono in qualche modo compattati in un lasso di tempo più ristretto del reale e molto più drammatizzati ma costituiscono pur sempre nell'intenzione del narratore un itinerario possibile all'interno della costruzione mitica e fantastica dizionario abia città del peloponneso di incerta collocazione promessa da gomennone ad achille assieme alle altre se fosse tornato a combattere agiliava termine rinvenuto nei documenti degli archivi ittiti in cui gli studiosi ravvisano l'etnico degli acchei micenei ambron è un termine di fantasia che abbiamo derivato dall'etnico latino ambrones con cui gli antichi liguri usavano definirsi arne località della boezia che oggi gli studiosi tendono a identificare con la fortezza di glà assuva termine ittita che sta probabilmente per asia knan è il nome con cui i fenici chiamavano se stessi cananei ancora nel quarto secolo dopo cristo eneti popolo mitico dell'asia minore alleato dei troiani avrebbe seguito antenore in italia secondo la tradizione partecipando alla fondazione di padova laz termine di fantasia per definire i proto latini lavagetas miceneo colui che guida il popolo forse il capo dell'esercito o il rappresentante del popolo presso il re ombro termine di fantasia che vuole evocare i proto umbri pacana miceneo per spada peleset trascrizione dall'egizio pilles delle liste dei popoli del mare che forse indicano i filistei questo popolo è evocato dal toponimo filistina alle foci del po pica termine di fantasia per indicare i protopiceni ponicchio dal miceneo forse riferibile ai fenici chardana tradizione dall'egizio chardan dalle liste dei popoli del mare in cui si riconoscono di solito i sardi sechelesh trascrizione dall'egizio dalle liste dei popoli del mare in cui si riconoscono di solito i siculi terch è una delle trascrizioni proposte per una possibile identificazione di una componente proto etrusca nella lista dei popoli del mare urartu nome con il quale si identificava l'armenia nei documenti assiro balibilonesi vilusia toponimo etitia e luvio in cui di solito si ravvisa la città di ilio o troia vanax miceneo da cui il greco anax signore